bene amici bentornati in questo nuovo video di gta 5 online siete compagnieri toni amsic 17 e oggi raga andiamo a fare un'attività un po' diversa dal solito siamo con il trio meraviglia ovvero pirata che eccolo qua bella pirata bella doni bella tutti i donini grandissimo pirata e sai che killer ovviamente sai che killer è famoso per il suo lag che si sente ogni tanto si sente ogni tanto no comunque raga come potete vedere questa attività l'ho creata io è un'attività nuova qua abbiamo un elicottero che adesso vi spiego bene come funziona qua abbiamo il troppi track vedete che ci sono di due diversi colori nero e giallo che praticamente è una sfida triangolare come l'ultima nel diciamo l'ultima del canestro allora pirata sali nel troppi track prenditi il colore che vuoi io prendo il giallo quindi non prendi più quello che vuoi appunto ci hai lasciato molta scelta ne hai lasciato allora avrei una cosa da dire avrei una cosa da dire non usate il teletrasporto mi raccomando ecco come fa ad esempio sai che killer ok raga ecco vedete qua siamo nell'attività guardate la scritta toni questa attività come ho già detto prima l'ho creata io allora pirata e psych killer funziona così che i primi due si sfidano è una sfida alla gara parkour il primo che riesce ad arrivare qua sopra facendo tutto il tragitto del percorso del parkour vince e si va a scontrare contro psych killer che sta volando in cielo con l'elicottero per controllare che nessuno imbrogli ovvero o io o pirata allora pirata sei in postazione allora dove partiamo partiamo da qua da qua si dobbiamo aspettare l'arbitro cioè psych killer che dà il via ok ragazzi allora sai che una cosa non ti a buchiare con l'elicottero però eh ne ho messi due in più però sai te lo dico allora raga 3 2 1 via ok partiti calmi calmi toni perché ah no guarda come va quel bastardo e c'è avanti allora il problema che se qua cadi non è che eh puoi risalire o quent'altro devi rifare di nuovo tutto da capo quindi è un casino vabbè ma io subito mi sono andato a scontrare contro pirata che già lui è forte in queste cose allora la pirata è già in vantaggio ragazzi sta già facendo la parte non mi si gira sto cazzo ritrova beh ok perfetto pirata si è incastrato vediamo se riesce a recuperare vai 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 toni vai ok pirata recuperato ragazzi è in prima posizione no 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 aspetta 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 io preferisco andare con calma no pirata io preferisco andare con calma perché se cadi qua ce l'hai nel culo eh devi rifare tutto no vai 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 no lo sto imbrogliando lo sto imbrogliando giuro poi c'è Psyche Killer che controlla eh non imbrogliare tu non imbrogliare tu più che altro io non imbroglio mai nooo quando dormi parliamone parliamone bravo bravo Psyche allora no qua c'è il pezzo no vai su vai 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 ok ce l'abbiamo fatta Psyche dove è pirata me lo dici? eh pirata è arrivato proprio adesso no è arrivato quindi ragazzi la prima sfida è stata vinta da pirata ma vaffanculo pirata ma non è possibile sì no vabbè I am winner ma eh ah mica è imbrogliato Psyche no 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 mi dispiace Tony ma è tutto regolare non è imbrogliato ma no non ci vuole vabbè ma si sapeva eh questa sfida io l'ho fatta eh perché sapevo già che perdevo in partenza perché io sono bravo ma non c'ho la velocità di pirata allora la ecco elicottero distrutto allora sali Psyche che ti porto a prendere la vettura e io prendo l'elicottero così faccio l'arbitro io ok raga sto prendendo io l'elicottero non vi assicuro nulla perché non lo so neanche portare sto aggeggio comunque pirata e Psyche killer stanno andando al alla partenza di questa seconda sfida di gara parkour comunque ragazzi lasciatemi anche scritto nei commenti se mi piacciono queste nuove serie inventate da me queste sfide triangolari con il trio meraviglia prima abbiamo fatto quella del canestro la sfida al canestro adesso facciamo la sfida alla gara parkour e poi ci saranno altre sfide di triangolare allora raga siete pronti del trio meraviglia intanto toni aggiorna la classifica provvisoria per favore ah va bene ok che bastardo infierisce sempre lui vabbè comunque toni zero punti purtroppo toni sta anche precipitando con l'elicottero vabbè raga partite perché io non so portarlo sa fare allora praticamente pirata un punto toni Amsic zero punti e Psyche killer che adesso deve gareggiare contro quella brutta persona con la macchina nera ok siete pronti raga io vi do il via eh 3 2 1 partenza vai 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 è partito prima pirata però è imbroglione guardate guardateli guardateli ah guardate Psyche killer che è intrappolato madonna pirata però pirata te quel tragitto l'hai già fatto eh quindi sei un po' più avvantaggiato sì che raga i tragitti sono uguali per tutte e due eh come potete vedere dall'alto si è caduto intanto no si è caduto eh quindi hai vinto pirata l'idea eh mi sa di sì mi sa che raga questo triangolare solo aggiudica il pirata bene 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 comunque mi stavo dicendo come potete vedere le due i due percorsi sono equivalenti eh sono uguali sono veramente uguali allora pirata intanto sta facendo il suo percorso magari non si sa mai pirata può anche cadere all'ultimo eh non si sa mai può cadere anche qua che il pirata ti porta a casa la dittoria occhio che per me puoi cadere eh dimmi Tony sta bufando come non si sa cosa oh ragazzi io comunque vi faccio vedere una cosa dall'alto guardate cosa sembra qua sotto non vi dico nulla dai pneumatici cosa sembra vabbè allora questo questo video deve rimanere cioè anche adatto ai minori mi raccomando soprattutto soprattutto intanto pirata sta andando a concludere ragazzi eh sai che killer andiamo a vedere dov'è ma purtroppo è caduto sai che killer è niente sai che killer è ancora là bro abbiamo perso entrambi mi sa perché questa sfida se la giudica pirata guardatelo sta andando a concludere andiamo a vedere pirata che arriva eccolo là eh sì aggiorna la classifica Tony anzi dove sei che non ti vedo manco dove sei? allora sai che purtroppo questa sfida triangolare in questa gara parkour l'ha vinta pirata purtroppo ha battuto sia me che te quanto è bello quanto è bello sentire il nome pirata l'incisore mamma mia eh vabbè quando è giusto è giusto ragazzi comunque raga andiamo al luogo sì non mi schiacciate però micchia allora io scappo da qua mi faccio il parkour a piedi me ne vado me ne vado può darsi che se lo facevo a piedi arrivavo prima no no mi sa mi sa che mi stanno inseguendo allora aspettate raga venite qua da questa cosa che sembra tutta un'altra cosa comunque va bene così allora venite qua che facciamo il nostro saluto finale ecco sai che killer che ha tutto di nuovo ci sta prendendo gusto ok ragazzi si conclude qua questo video di questa sfida triangolare su questa gara parkour creata da Tony Amsic io vi ripeto sempre iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e entrate tutti nel canale telegram mi raccomando e seguitemi anche su instagram e niente raga dal trio meraviglia da Tony Amsic e pirata un abbraccio e un bacione bella a tutti raga bella a tutti raga grazie a tutti bella raga mi raccomando lasciate un bel like soprattutto il pollicione blu è sempre più bello del pollicione all'ingiù il pollicione blu è molto più bello devi salire sopra no 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 aspetta aspetta mi sono ammucchiato mi sono ammucchiato con l'incontro pirata aiutami mi sono ammucchiato dove vengo? qui mi guarda vieni a vedere dov'è che la facciamo la miniatura? qua sopra è 10 minuti che ti stiamo aspettando ma guarda che se gareggiavo quanto di te la prima sfida la dicevo eh mamma mia ragazzi io non ci voglio prendere mi sei castratta la macchina o che è disposto? oh pirata si pirata oh sai che si sta facendo notte sto arrivando non arrivare con l'elicottero ma certo l'ultimo l'ho bruciato io è bello che mi ha detto stai attento che tu li distruggi tutti eh mi ha detto vabbè ma io non sono capace a portare per cazzo gli affari eh io sento giornare andate so si sta facendo io peristai udeciati grazie a tutti grazie a tutti